Marco Palmieri Marco vieni sul palco per favore Marco vieni parlaci del film di Porfito aspetta un attimo mi serve una delle due cartelline che premio vince ma ah Marco Dill grande Marco non avevo associato il nome alla faccia grande allora immagina sei contento? buonasera, complimenti grazie te l'aspettavi Marco te l'aspettavi a questo punto sapete che sarebbe carino se voi ci date il premio anche di Mario e saltiamo proprio la presenza di Mario ma secondo me è una buona idea già è andato Mario e si gioca è andato a spostare la macchina veramente per che cosa hai vinto tu? no, no, ma non lo so nella vita che hai fatto? l'ultima cosa che ho fatto il teatro comicissimi fratelli hai vinto per quello per quello per comicissimi fratelli Marco una splendida stampella stilizzata e una stampella stilizzata allora facciamo così il personaggio si chiama Pepe no Pepe? si pronunciamo è la sua straordinaria intervista no perché che l'hai tu Pepe ma qua Pepe no, 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 no eccolo qua è arrivato Mario Parfido aspetta Mario ora stiamo facendo è nato il premio no, no, vieni grazie grazie no, toccava a te ma già ne abbiamo parlato no, no, non è il tuo guarda, guarda cosa c'è abbiamo già ritirato il premio no, no, no